E' il momento di parlare di vetro, di vetrate, ma anche delle vostre case. Perché? Ve lo spiego subito. Sapete benissimo che ancora sino a dicembre ci sono le agevolazioni al 50%, quindi se volete rifare parapetti, porte, rivestimenti, specchi, pareti doccia, tutto in vetro, rigorosamente su misura per il vostro ambiente, progettate e installate con cura, beh, insomma, a questo punto dovete rivolgervi assolutamente per lavori che diventeranno unici Torsellini Vetro, che dal 1960 è l'azienda vetraria di riferimento del nostro territorio. Ricordiamoci che il vetro crea pulizia, limpidezza, chiarezza negli ambienti che respirano i nostri occhi senza barriere. Torsellini Vetro ha sviluppato anche la divisione serramenti, scegliendo i migliori produttori di infissi per portare luce e benessere nelle nostre case. Torsellini Vetro è First Window Partner Internorm, quindi volete conoscere il mondo di Torsellini Vetro? Andate su torsellini.com